Buongiorno amici, oggi mi trovo a Castel Delfino in Valle Varaita, in provincia di Cuneo, per la fiera di San Martín alla Vilo. Buongiorno amici. 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 qui sta arrivando un gregge di pecore ciao con i cani mare in mani da guardia guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate che spettacolo Questa è una vacca pezzata austriaca. Incominciano a mettere il pelo folto per proteggersi dal freddo. Questa è una vacca pezzata austriaca. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.